Grazie Massimo, scusate il ritardo e la voce. Non so da dove partire perché vorrei, quando si assumono certi ruoli come quello che sto avendo adesso anche un po' Alberto, si tende un pochettino nella nostra mente a guardare un po' i problemi e gli ostacoli, che non sono tanti, ma cercherò di essere primo optimista e poi di sullevarli non come rivendicazione ma come problematicizzazione. La funzione di rigenerazione urbana che ha avuto l'Università Brescia, che vorrei sottolineare perché bene che tutti siamo consapevoli, io ne sono fino al proprio giorno, è un'università che è stata fornuta da una società matura e ricca che aveva bisogno anche di un'università, quindi non è il driver dello sviluppo socio-economico della città nella provincia di Brescia, ma è uno degli attori. Ci sono altri territori dove l'università è uno dei driver principali dello sviluppo socio-economico. Avere questa consapevolezza sicuramente ridimensiona un po' e ti rende anche chiaro il contesto in cui lavori. Comunque ha svolto una funzione di rigenerazione e è pronta a svolgerla anche nel futuro. Anche se ultimamente magari non siamo direttamente coinvolti anche nei processi e nelle trasformazioni di cui avete parlato in questo convegno, ma siamo in contatto con l'amministrazione per tutta una serie di eventi puntuali che sarebbe bene magari che mettessimo i prossimi anni un po' a sistema. Dico una cosa buona, quindi siamo ancora impiati su questo costante, una difficoltà che tocca anche il tema della rigenerazione. Io credo che l'Italia si stia suicidando e sia sul cornicione di burocrazia, tale per cui le operazioni con cui Brescia ha potuto rigenerare pezzi della città vent'anni fa, oggi diventano molto difficili. Faccio un esempio banale, ma anche per i tecnici credo che sia molto chiaro di capire. Il bando che fra l'altro io vi ho sfruttato anni fa e che volevo sfruttare anche io quest'anno, il piccolo finanziamento del co-finanziamento dell'Università dell'Università, perché erano i luoghi di residenza e la residenza degli studenti in città, sappiamo che rispetto alla presenza dell'Università nella città è uno dei fattori più importanti, perché se la città è, come sono le strutture superiori prevalentemente, un luogo dove si viene di giorno e si fa a casa la sera, difficilmente farà quel stato di qualità di essere città universitaria, come molti evocano e quasi ci chiedono un certo desiderio di diventare. Bene, le residenze, il bando per le residenze esce, sta aperto a tre mesi e devi presentare un progetto definitivo. Secondo le gare e le necessità che ci sono burocratiche, in tre mesi l'ufficio tecnico del nostro teneo se mai riesce a scrivere il bando per poi metterlo, per poi aspettare che qualcuno lo vinca e poi poi fai fare il progetto e quindi passano tre anni, due anni, un anno e mezzo. Quindi oggi ci stiamo suicidando di burocrazia. Se vogliamo fare una generazione, se vogliamo cambiare la nostra città, dobbiamo capire una volta per tutte che con questo sistema di regole che continuiamo a darci per motivazioni che a me per lo più sono oscure o sono miranti ad un effetto che poi non genera o ne genera un altro, perverso, non riusciremo a far partire tanto per azioni che in altri paesi invece si fanno. Parlavi di Londra, bisogna vedere anche perché si trasforma in questo modo la città di Londra, sono investimenti di grandi capitali, non sono certo residenze universitari nel studio, 200 euro al mese, questi sono a 30 km fuori Londra, sono verso Gettwick e da queste altre parti. E qui il secondo tema, e qui è più urbanistica che è un'università, la rigenerazione si muove, a parte questi bellissimi esempi di contenitori che l'amministrazione pubblica può riutilizzare, ma la rigenerazione fatta dai privati si muove perché tradizionalmente si generava un plus valore nelle aree urbane che oggi si genera sempre meno o nei casi dei siti contaminati, brownfield, le aree industriali di semestre di cui avete parlato, si genera addirittura un minus valore, le aree vengono di meno quando le avevo acquisite e le operazioni si bloccano. In questa prospettiva difficilissima da risolvere, perché adesso anche quando mi chiamiamo intanto con nessuna rigenerazione a me viene sempre un freddo lungo la schiena, perché ancora con nessuna rigenerazione io probabilmente sarà l'ultimo forse questo, ma non so più cosa dire sulla rigenerazione, perché sappiamo come si dovrebbe fare, ma non lo facciamo semplicemente, la burocrazia da un lato, dall'altro una politica miope che ragiona, non sto parlando di amministrazione a Brescia, ma quelli che fanno già un po' le scelte che determinano i processi, che ragiona a brevissimo termine e che non consente di utilizzare le risorse che ci sono, ma non ci sono oggi. Esempio, le politiche che si fanno positive in campo ambientale consentono risparmi al futuro. Bisogna che questi risparmi siano spesi oggi, bisogna fare un mutuo, bisogna avere in prestito i soldi e non spenderli fra dieci anni per curare le mutazioni genetiche che a Brescia sono state dimostrate, dovute anche alcune problematiche, non soltanto Brescia direttamente, da problematiche ambientali. I soldi per le strutturazioni edifici in chiave antisismica vanno spesi oggi e non un miliardo alla volta dopo l'ennesimo evento sismico che siamo certi che ci sarà fra qualche anno, semplicemente non sappiamo dove. Nel 1978, su questi 40 anni, un illuminato professore del Politecnico di Milano aveva calcolato cosa sarebbe costato mettere in sicurezza il patrimonio di inizio italiano e quanti soldi avremmo risparmiato e quante vite umane. È stato ovviamente rigorosamente non seguito il suo Consiglio, abbiamo speso 6-7 volte tanto, l'ha detto il rapporto Italia Sicura, lo dico io, e abbiamo accettato milioni di morti solo per un evento sismico. È un esempio molto crudo per far capire che le risorse ci sono, ma sono nel futuro le risorse. Ci sono i soldi che spenderanno i nostri figli e noi dobbiamo fare un prestito e dobbiamo investirne oggi un po' di meno, naturalmente, per risparmiarli domani. Un secondo punto che tocco, che è legato al ruolo dell'università, è chiaramente la sua prima mission, che è quella formativa. Poi c'è la ricerca e poi c'è la terza missione, che è pure un rispetto molto importante e, lato positivo, nella terza missione stiamo investendo molto con l'università. Ci siamo inseriti negli eventi, ma non perché sono io qui stasera, ma in molti eventi che avvengono in città, su tutti i temi in cui noi possiamo mettere un pochino del nostro sapere. Abbiamo guidato in questa sala, insieme all'amministra cattolica al Comune, il percorso Brescia 2030, cercando di ragionare sulle strategie. So che la Leonessa l'ha definito vago, ma mi piace tutta l'azione che fa Bormioli, quindi l'accetto, si può sicuramente migliorare, però il percorso l'abbiamo fatto insieme. Informiamo i nostri studenti di tutto quello che sta avvenendo anche fuori dall'università, con sito web e con altri strumenti e stiamo facendo un percorso sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che dovrebbero essere la sfida più grande che l'umanità si è posta a andare al 2030. Lo dico solo perché è stato chiesto a chi dire lo facciamo, non è pubblicità occulta, ma sono idee che ci portano fuori. Ma tornando all'aspetto formativo, adesso dico il problema. Siamo in un momento di grande frammentazione, è bellissimo che ci siano luoghi di riflessione come questo e tutti quelli che possono avvenire. Trovo meno efficiente ed efficace che in città ci sia il 7 aprile una proposizione della, scusate se è una parola che non dovrei usare il pubblico, ma insomma vuoi essere più figo o tra i figli e quindi vieni qua che ti diciamo come fare a essere più bravo e dopo noi facciamo poveramente, miseramente, gli univiesti days a maggio, cercando di far capire quello che fa l'univiesti di Brescia. Ecco, quindi da un lato proiettiamo in un modo che magari non esiste neanche l'anno scorso a pagamento i figli di un certo classe, sono molto franco, come vedete, poi sicuramente qualcuno l'armi può fare, e poi noi poveramente facciamo gli univiesti days. Ecco, questo è lo scordinamento che in una città media si paga molto di più di quello che si paga in una città grande. Brescia ha tantissime, anche grazie al Comune ha avuto tantissime iniziative culturali in questi anni, non c'è coordinamento. Io stesso giovedì scorso parlavo in una sede e in un'altra parlava, una persona molto più autorevole di me, a Vigo Giovannini, esattamente in contemporanea. Sprechiamo persone culturali in questa città e con uno sbarfo e una agenda condivisa in 10 soggetti riusciremo a abitare sulla posizione. Ma la formazione ha anche altri problemi più profondi, lo dico perché colloco con il mio ordine professionale e quello di ingegneri a livello nazionale, siamo in un momento di bassa di coordinamento tra l'università e la formazione permanente, che ha spiorato anche momenti drammatici. Non ci stiamo coordinando nella filiera formativa, non ci stiamo coordinando. Da un lato forse i professionisti vocano una maggiore presenza in università, dall'altro gli universitari vivono un totale scolamento con la realtà professionale, voluto anche dagli ordini professionali. Cosa che non esiste nella categoria medica, che infatti forma gli unici professionisti che il giorno dopo la laurea incominciano a lavorare, seppure scuole di specialità, ma a lavorare. Gli altri vanno dagli aziende e gli imprenditori dicono adesso li devo formare per due anni perché questi non stanno a fare niente. Il rapporto OX sulla formazione d'Italia del dicembre e novembre l'anno scorso dice di questo scolamento, formiamo high skills in Italia, siamo bravi nell'università, peccato che spesso non sono gli skills che vogliono il mondo della popolazione. A Brescia, vi dice, il mondo manifatturiero ha almeno 200 ingegneri all'anno che poi abbiamo ragazzi che non trovano lavoro. Questo è un problema. Brescia dovrebbe lavorare per essere un laboratorio nazionale, oltre come stato nel campo dei trasporti, per esempio, dell'energia, anche nella formazione. Perché abbiamo una società ricca, abbiamo quindi le possibilità, abbiamo un'offerta intensificata, abbiamo due università e altre tre situazioni similabili, universitarie, dobbiamo coordinare la filiera perché dobbiamo domandarci che cosa dovranno fare i nostri figli nel futuro e questa è una domanda drammatica. Il sistema universitario che si sta riprendendo dopo dieci anni di tartassamento perché nell'opinione pubblica ha perso di credibilità e una parte per colpa sua e una parte perché non c'è il miglior modo di far perdere credibilità all'istituzione per sottofinanziarla poi, non serve niente quindi non lo finanzio. Il sistema universitario mantiene ancora delle rigidità nella formazione. Per esempio, diceva l'assessore Timoni, una figura che coordina i processi. Bene, provate voi a istituire un corso di studi interdisciplinare come è la realtà professionale interdisciplinare con dei professori che hanno un'appartenenza in tipo genomico, cioè noi abbiamo un settore scientifico disciplinare che sta in un macro settore, che sta in una macro area e se pubblichiamo, se io pubblico un articolo di geologia applicata posso essere anche bravo ma non mi serve a niente viceversa geologo e invece poi interagiamo nella gestione del territorio con le scienze della terra. Ha questa rigidità così come ha le rigidità di essere un ente pubblico che lavora in un contesto internazionale e anche nazionale che chiederebbe regole privatistiche. Su questo Brescia alla sola non può fare molto, però i laboratori, Brescia è spesso stato un laboratorio a livello nazionale, di proposte che poi sono diventate nazionali, potrebbe esserlo anche nel campo della formazione. Finisco con un'ultimissima cosa, tornando ancora al tema della rigenerazione. Noi abbiamo, ci sono stati un po' di investimenti di risorse, però abbiamo una, come dire, un'attenzione che in istituto di infrastrutture nella gestione degli ultimi due anni ha cercato di invertire. Abbiamo una gestione che è focalizzata, anche Brescia è stata un po' così, no? Su grandi opere. Brescia ha fatto il telescadamento, Brescia ha fatto il metro, tu ricordavi la TAV, possiamo anche dire le previsioni del PUNS lodevoli di linee tramviarie, quindi la grande opera. Il ministro del Rio quando ha iniziato il suo mandato ha detto che non esistono grandi opere, esistono opere utili. Io la trovo una frase molto saccia e l'utilità nella rigenerazione urbana, secondo me, giace al 95% nel coordinamento tra gli investimenti, anche su opere economicamente rilevanti, e il disegno dell'assetto territoriale. Brescia ha già speso un miliardo per la metropolitana e spende milioni ogni anno per la gestione. Questo è uno dei driver non più cancellabili nel disegno del sviluppo urbano della città e della rigenerazione. L'università fortunatamente, o per scelta, sta con i suoi edifici sull'assetto della metropolitana. Quindi noi siamo una delle funzioni che sono assolutamente favorita della metropolitana. Noi siamo opposti. Lo stesso non si può dire per altri servizi evidentemente. Però il coordinamento, vedete che questa potrebbe essere la parola chiara, coordinamento dell'attività culturale, coordinamento della filiera formativa, coordinamento delle politiche di governo del territorio, investimenti, infrastrutture e assetto territoriale, io credo che siano, soprattutto quando le risorse sono scarse, l'unica via d'uscita per poter continuare con lo sviluppo che speriamo non si arresti e che possa dare ai nostri figli una speranza di trovare il lavoro nel nostro territorio. Grazie. Grazie professore, anche per questo bagno di realismo a cui lei ci ha costretto, perché noi nel corso del convegno mi hanno sentito riscrivere molte buone pratiche. Poi c'è il rischio che dalle buone pratiche si passi ad una visione ideale che magari non corrisponde alla quotidianità e quindi i problemi che lei ha evocato di rigidità nella regolamentazione, di scarsità delle risorse e di rigidità nel strutturare percorsi formativi, mi sembra che aprano gli occhi o comunque ricordino a tutti le complessità verso le quali andiamo e con le quali anzi dobbiamo confrontarci quotidianamente. Sono temi che credo sollecitino anche il nostro altro interlocutore che è il professore Alberto Ferregga, architetto, ma qui come rettore dell'Università UAB di Venezia, scusate ho mangiato un po' di parole, dicevo che i temi sollecitati, sollevati dal professor Tira credo che sollecitino anche il professore Alberto Ferregga che ha anche un altro titolo, un altro merito, mi permetto di dirlo, che è un po' il papà di questo convegno. Lui è membro del comitato scientifico quindi ha dato un grosso contributo all'ideazione di questo convegno, poi non a caso abbiamo sentito ricercatori e docenti dell'Università di Venezia che hanno dato dei contributi importanti questa mattina. Formazione, li state formando i nuovi progettisti preparati per la rigenerazione oppure prevangono i temi e le criticità che sollevava il professor Tira. Prego. Grazie. Grazie.